A Torre Annunziate, Terzigno, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Fasolino, hanno tratto in arresto i pregiudicati Francesco Monaco, 31enne di Torre Annunziate, e Giuseppe Savarese, quarantenne di Terzigno, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura della Repubblica, in quanto ritenuti responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura restrittiva scaturisce dalle indagini svolte dai militari agli ordini del Maggiore Eric Fasolino, che hanno permesso di comprovare, anche attraverso l'estrapolazione dei filmati di videoserveglianza del Comune di Bellizzi, la loro presenza nelle fasi precedenti in sequestro dei 30 kg di hashish, avvenuto lo scorso 27 marzo. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Forne.